Amoruccio, amoruccio, amoruccio! Eccomi che c'è! Giunto il momento! Quale momento? Dobbiamo fare i regali di Natale! No, 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 non se ne parla nemmeno! Ma certo, bisogna comprare un sacco di regalini! Eh no, dai, no! Assolutamente, amore, e qui ho una piccola lista! Hai una lista? Tu hai qualcosa che non vale? Ma dai, sono solo dei pensieri! Eh, sapessi i miei pensieri! Come? Eh, niente! Allora, ascoltami bene! I regali sono per i miei genitori, i tuoi genitori, mio fratello, mio zio, mia zia Daniela, mia nonna, mio nonno, tuo zio Mario, Marco, Luigi, Roberto, tuo cugino Giovanni! Ma Giovanni chi? Ma sei il tuo cugino, amore, quello di quarto grado! E qui, amore, ho una lista per tutti gli amici! Fai molta attenzione perché sono fatti! Amore? Ma va a cagare, va a te, i tuoi regali di Natale! Ferma, ferma! La prego, andiamo più lontano possibile da qui! Dove vuole che la porti? Vada dove vuole, ma si sbrighi, la prego! Cosa ne dici se andiamo al centro commerciale? No! 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 Grazie a tutti.